Il Louponte è pronto a tornare ai fasti dei tempi che furono. La società Ravennate è infatti risorta dalle proprie ceneri nella speranza di tornare ad essere un polo per il calcio giovanile e non solo. Un progetto che si concretizzerà grazie alla collaborazione e al rientro in società di istruttori e preparatori di consolidata esperienza. Io credo che oggi sia una giornata importante perché di fatto una società, una situazione storica per il nostro territorio, Louponte, si riqualifica, si riorganizza e grazie veramente all'entusiasmo, la passione e il lavoro di Fabio Bazzocchi e il mio augurio è che questa società ottenga tutto quello che vuole ottenere e che questa società così importante per il nostro territorio ottenga i successi che merita. Sono sicuro che conoscendo le persone e conoscendo la dimensione di Fabio che questo sarà possibile. Importante la riorganizzazione e la rinascita della prima squadra perché fa da traino per tutti i ragazzi e importantissimo l'impegno con i giovani per insegnare loro, per portare sempre avanti quelli che sono i valori dello sport verso i ragazzi.